arrivo baby ah c'è la madre toria, troia la madre doppiamente troia la madre toria, si la toria si va ragà, lei va alcolica una volta a settimana, si può fare, non tutti i giorni svegliate il tasto mamma sem le zone sem le zone sem nooo, sem scusami what? questo è sbocciato come un fiore quel tipo lì mi ricordo cane stesa non ho visto quell'altro che stava arrivando ma esatto Ryuden, per quello ho messo il riscatto dei raffle a una cosa più alta come ci saranno poi quelle per le prove what? ok, da questo momento Danny può partecipare a tutte le raffle tutte wow l'ho preso? ma la clippate questa? l'ho preso come? 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 cova che è un programma di c'è un gioco di entraining get rekt si scusami get rekt scusami eh lo so mi hai spronato esatto ogni partita sono 2-3 pezzi blu si tutto bene come on baby let's go let's go let's go what? ma non lo so siamo in due siamo in due Sam sto qua a sparacolla rosa cosa sta facendo? ecco Zewi adesso è arrivato guarda come è fiero con l'arco guardalo corre in faccia ai nemici con l'arco go eh niente eh 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 fortissima raga ahah 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 Non corre neanche Non scatta neanche